Ciao ragazzi, sono Francesco Guarino, fondatore di Scuola TDM e oggi voglio parlare di un connubio un po' particolare, tarocchi e intelligenza artificiale. Allora, partiamo dal presupposto che quello del cambiamento è un tema affascinante ma anche paradossale all'interno del mondo spirituale, perché qualsiasi tipo di discorso che tu possa fare sul cambiamento o sulla trasformazione sarà sempre ben accetto all'interno dei circoli spirituali. Fin quando però il cambiamento non si manifesta, come per esempio l'intelligenza artificiale, l'avvento dell'intelligenza artificiale. Per esempio, quando questa benedetta intelligenza artificiale è entrata o sta cercando di entrare nelle nostre vite, si sta dimostrando tutta la resistenza. Quindi il cambiamento sì, in teoria, però in pratica non ci piace moltissimo. Fondamentalmente le grandi preoccupazioni che ho scoperto parlando con voi sono due. La prima, i dati personali, che questa è anche una cosa affascinante perché voglio dire, lottiamo tanto per la nostra privacy e poi vedo che fate i giochetti su Facebook dove è normale che già avete mandato a p***ne i vostri dati personali. Tuttavia, passi anche questo. Ma la seconda, che forse è più importante, più interessante, è che spesso la spiritualità è vista proprio come una sorta di disconnessione da determinate energie o comunque una comprensione diversa di determinate energie e l'introduzione di questa materialità di cui l'intelligenza artificiale si fa a portavoce viene vista con molta diffidenza, come se fosse un'invasione del campo spirituale. Tuttavia, credo che se il cambiamento viene visto in modo positivo all'interno dei circoli spirituali, l'intelligenza artificiale non deve fare eccezione, anzi può essere vista come una sorta di estensione di questo ragionamento. Quindi, senza girarci troppo intorno, intelligenza artificiale sì o no, ma assolutamente sì, sì, sì. E so che questa nozione, questa mia opinione potrà essere criticata e vista in modo controverso, ma tanto sono anni, il mio percorso spirituale è caratterizzato dall'essere criticato per avere delle idee fuori dalla norma. Pensa per esempio a una quindicina d'anni fa, gli anni non li ricordo bene, ma tanto è tutto verificabile, quando scrissi uno dei miei primi ebook, Codici segreti nei tarocchi di Marsiglia, dove 15 anni fa ti dicevo fate attenzione alla produzione a critica di mazzi di carte, perché tempo appunto 10-15 anni ci ritroveremo invasi da mazzi di tarocchi, di cui molti artistici, e quindi belli, bellissimi, fatene di più, ma altri saranno creati ad hoc per condividere delle nozioni che non stanno né in cielo né in terra, da persone che hanno una morale di dubbio gusto. E indovina un po', guarda di attorno, cosa sta succedendo? Oppure qualche anno dopo, ma sempre 10 anni fa a sbagliarmi, quando ho cominciato a vedere che la bolla economica stava scoppiando e quindi il cedo medio sarebbe stato spazzato via, e ho cominciato a dire inizia a monetizzare con la tua passione prima che sia troppo tardi, che nel mio caso erano i tarocchi, che cosa è successo? 2743 persone, tutti gli ignoranti che non sanno di che cosa parlano, ah guarino ma come fai ad accostare i tarocchi a questo, a questo, a quest'altro? Non sono passati manco 10 anni, manco 8 anni, cedo medio spazzato via, chi è che si è salvato, chi è che si sta salvando, chi sta cavalcando la nuova economia, chi sta trasformando la propria passione in un lavoro. Oggi sono qui a dirti, caro amico mio, fai attenzione a questa intelligenza artificiale, perché lo so che è figo, ti sembra spirituale dire no, non funzionerà, il sistema, ma non è una moda passeggera, quindi sarà sempre compito tuo capire come implementare in modo intelligente questo cambiamento che ti piomba addosso, ed è anche un insegnamento dei tarocchi. L'Arcano 16, il cambiamento è inevitabile, è la tua risposta al cambiamento ad essere interessante, quindi se la tua risposta al cambiamento, all'introduzione dell'intelligenza artificiale è utilizzare Facebook per dire i miei dati personali devono essere al sicuro, beh, fai prima di diventare un terrapiattista, perché hai quel tipo di idea, hai quel tipo di psicologia. Ora, andiamo a vedere che cosa ho creato io, cercando di condividere un'idea che sia imparziale, che sia trasparente, cercando di far capire a tutti quelli che possono essere dei punti fondamentali nel connubio, intelligenza artificiale e spiritualità e intelligenza artificiale e tarocchi. Allora, prima di farti capire qual è la mia idea a riguardo e come sono arrivato a strutturare un'idea, debbo ammettere che un annetto fa anch'io ho visto con grande resistenza l'intervento, l'avvento dell'intelligenza artificiale, perché non la vedevo come qualcosa di veramente utile, ovviamente nell'ignoranza. Poi è successo che un amico ha cominciato a farmi vedere diversi aspetti di questa nuova tecnologia, che effettivamente mi hanno rapito. I primi quattro fondamentali sono intelligenza artificiale come assistente avanzato per le tue ricerche, cioè tu immagina di avere un Google oppure un Wikipedia che è portato all'ennesima potenza, perché non ti fa più delle ricerche generiche, ma ti permette di fare delle ricerche basate su di te e non su quelli che sono i tuoi interessi, ma proprio su di te in base agli input che dai. Punto 2. Potrebbe sembrare triste. Compagno di conversazione virtuale. E lo so che dici, mamma mia che tristezza, ma ho veramente bisogno dell'intelligenza artificiale. Certo, assolutamente sì. Innanzitutto perché nell'era della comunicazione non comunichiamo più. Tu non sai quante persone durante un consulto di tarocchi hanno come grande problema il fatto di non sapere con chi parlare. E se stai qua a commentare, a perdere tempo a commentare che questo non è vero, probabilmente sei il primo che non stai dando il tuo tempo a qualcuno all'interno della tua vita che ha bisogno di comunicare. Magari non ha bisogno di comunicare con te, ma ha bisogno di comunicare. E non si tratta di scomodare Google Chat GPT oppure Alexa per farti la chiacchierata serale. Si tratta di implementare questa tecnologia e di utilizzarla per dare un sussidio alle persone che in qualche modo possono sentirsi da sole. Punto 3. Un supporto per la salute mentale e fisica. Ragazzi, l'intelligenza artificiale è da anni che è implementata all'interno del circolo sanitario. E noi che cosa possiamo fare senza aspirare a tanto? A volte possiamo fare anche delle ricerche di natura psicologica che non siano necessariamente così accademiche, per toglierci delle curiosità, per esempio. Punto 4, che è quello che mi ha stuzzicato di più, è che l'intelligenza artificiale può essere un guru 2.0. Il termine guru ha subito una degenerazione del significato nel tempo, ma nella sua asserzione principale è un termine che deriva dal sanscrito e significa colui che toglie l'oscurità. Ecco perché può essere attribuito all'eremita del tarocco di Marsiglia. E quando tu utilizzi l'intelligenza artificiale per togliere l'oscurità della tua ignoranza, cavolo se l'intelligenza artificiale può diventare un guru virtuale, un guru 2.0. Ancora una volta, ti può sembrare strana questa cosa qua? Può sembrarti così dissagrante? Ebbene, questo è il cambiamento che tanto decanti dai tuoi libri e dai tuoi circoli spirituali. Quindi ritengo che, invece di sentirci minacciati dal fatto che l'intelligenza artificiale possa andare a sostituire determinate figure umane, possiamo abbracciare l'idea che ci sentiamo tutti potenziati da lasciarci affiancare dall'intelligenza artificiale. Ecco, c'è questo piccolo passaggio, non sostituire, ma affiancare. Io ho fatto un esperimento per girare questo video e poi per fare l'articolo del blog su tarocchi.blog e ho cercato di farmi spiegare da chatgpt4 che cos'era in modo semplice il Dharma e ti andrò a leggere quello che il bot mi ha risposto. Ovviamente quello che io ti leggerò, che prendo a pieppari dall'articolo, non è proprio l'output perfetto dato dal chatbot che vedrai ovviamente in sovraimpressione, ma questo perché il fare copia incolla all'interno di un articolo può comportare a una penalizzazione da parte dei motori di ricerca. Io ho fatto un riassunto dell'output del chatbot, ma che comunque non va ad inficiare quello che sto dicendo. Chatgpt mi ha detto, e lo andrò a leggere, il Dharma nel buddismo è un concetto centrale e può essere spiegato in modo semplice attraverso alcuni punti chiave. Gli insegnamenti del Buddha, questi possono essere visti come una guida per allontanarsi dalla sofferenza e raggiungere una vita più serena. La verità universale, questo va oltre gli insegnamenti specifici ed è più come un insieme di leggi universali che descrivono il funzionamento del mondo, la realtà stessa. Il Dharma può essere visto come il fondamento di tutta la realtà, i piccoli perché che stanno dietro ad ogni cosa esistente. In sostanza, chatgpt4 mi ha offerto degli spunti semplici, mega riassunti, rispetto al Dharma. E so che anche in questo caso, ah ma il Dharma è solo questo, non è solo questo. Ovvio, io ho chiesto di darmi una spiegazione semplificata. Nessuno ti vieta di chiedere una spiegazione più approfondita, oppure di approfondire solo i punti che non stai capendo. Vedi la potenza del guru, di colui che va a portare luce nell'oscurità? Puoi capire e studiare non da tomi pesanti che poi in realtà nessuno studia e nessuno capisce, ma in base a quelle che sono le tue esigenze e calibrare il progresso dei tuoi studi avendo questo assistente virtuale che veste le tue necessità. E ora la domanda che tutti ci aspettiamo. Ma allora il bot, che sia Google Bard, che sia ChatGPT4, può leggermi addirittura i tarocchi? Certo, ma è attendibile? Valutiamolo un attimo insieme. In uno dei miei consulti recenti, una ragazza mi ha fatto una domanda un po' particolare, particolare perché era carica di emotività, e mi ha chiesto perché sento così tanto il bisogno, la necessità di essere considerata dagli uomini. E le carte estratte sono state Papa, Arcano XIII e Sole. Dopo un dialogo mirato, ho subito detto alla ragazza che probabilmente questa necessità nasceva dal fatto che aveva perso una figura paterna in passato, e quindi questo gli aveva portato a una mancanza importante, a una deficienza importante, che lei cercava di sanare nelle nuove relazioni, ovviamente con uomini, che potevano essere delle relazioni emotive, ma anche delle relazioni di amicizia, rappresentate ovviamente dal Sole. Quindi in questa necessità di essere considerata dagli uomini si nascondeva una necessità inconscia di essere considerata da un padre che purtroppo lei non aveva avuto. La rivelazione che ne è venuta dopo è stata sconvolgente, perché mi ha detto immediatamente di aver perso suo padre, però non è tutto. Infatti, quando ha perso suo padre, lei era molto piccola e non aveva sentito questa mancanza, dato che la madre continuava a dirle che il padre era una persona ignobile. Crescendo, quando lei ha riallacciato i rapporti con la famiglia paterna, ha capito che non era il padre ad essere una persona ignobile, anzi, era un uomo che si faceva un mazzo tanto per garantire l'equilibrio della famiglia. E visto che la madre lo attaccava sempre, lui, quando non lavorava, cercava di passare tempo fuori casa, altrimenti lavorava tutto il giorno e quindi passava tempo fuori casa. Ecco perché delle sue assenze. E il fatto che lei l'abbia scoperto dopo e ora, in questo momento, può solo lavorare con l'archetipo paterno, non con il padre perché ovviamente non c'è più, è morto di cancro, la porta a vivere questa deficienza emotiva e quindi questa necessità di essere vista, di essere considerata dagli uomini. Dopo qualche giorno, sempre per fare questo video con conseguente post del blog, ho chiesto a ChatGPT, in base a questo prompt, di leggermi i tarocchi. Anche in questo caso, cercando di essere preciso e aderente all'originale, andrò a leggere. Il prompt che ho scritto è stato questo. Una donna ha chiesto ai tarocchi, perché ho cercato di specificare qual era la situazione. Da che cosa nasce la mia necessità di essere considerata dagli uomini, ho estratto le carte dei tarocchi, il papa l'innominato il sole. Che significa? E ho inviato questo prompt. Ecco la risposta. Mi raccomando, la troverai un po' cambiata per la motivazione che già ti ho espresso prima. ChatGPT4 mi ha detto, il papa indica un desiderio di approvazione o di guida da una figura autorevole. Parla anche della voglia di trovare sicurezza e stabilità. L'innominato, la necessità di essere considerata dagli uomini deriva da vecchie credenze o esperienze passate, il sole. Trovare approvazione dagli uomini non è l'unica fonte di soddisfazione. Il chatbot poi ha concluso con un piccolo riassunto in cui suggerisce che la necessità di essere considerata dagli uomini nasce dal desiderio di approvazione e dal bisogno di superare vecchie abitudini. Conclude suggerendo di prendere coscienza del fatto che la realizzazione e la felicità si possono trovare oltre questa ricerca di approvazione. Ora, è giusto? È sbagliata l'interpretazione che ha dato ChatGPT4? Beh, no, di base può essere anche giusta. Ma perché è giusta? Perché fondamentalmente la logica del chatbot è stata prendere le parole chiave dei singoli arcani che io gli ho comunicato. Filtrarle per mezzo della tematica proposta dalla domanda e restituire questi significati in un contesto che rimane un po' in superficie. Quindi, come lettura basica va bene, ma ovviamente non è una lettura in grado di dare degli input così illuminanti come se davanti avessi una persona in carne ed ossa, un professionista in carne ed ossa. Inoltre, quello che ho notato è che i punti a sfavore della lettura dei tarocchi con un motore di ricerca sono cinque. Uno, la mancanza di empatia. A volte il come diciamo le cose con i tarocchi è tanto importante quanto quello che diciamo. È ovvio che il chatbot rimane su una freddezza data dal digitale e se noi non riusciamo a metterci nelle vesti, nei panni del consultante, lui non capirebbe fino in fondo quello che gli stiamo dicendo. Due, e forse questa è quella che mi tocca più dal vivo, è la totale assenza di intuizioni personali. Perché per quanto noi vediamo trame sotto trame, il governo nel governo, queste macchine che sperimentano sempre di più le emozioni, il chatbot non ha intuito. Si basa su dati non sempre aggiornati che ti restituisce. Quindi non ha intuito, non canalizza dei messaggi straordinari. Tre, la limitazione nell'interpretazione dei simboli. Perché comunque il chatbot conosce quella che è l'idea principale dietro ogni singola carta. Addirittura lui non mi ha nemmeno chiesto che mazzo stavo utilizzando. Figuriamoci se può andare di sua spontanea volontà ad analizzare i simboli inseriti in un contesto logico di quel particolare mazzo di carte. Ma tutti i lettori di tarocchi più spigliati, tutti i lettori di tarocchi più scafati ti sapranno dire che conosce la simbologia del proprio mazzo è fondamentale per lavorare con la multidimensionalità. Ovvero quando inizia poi il dialogo con il consultante filtrato dalle carte estratte, quando il consultante dice qualcosa tu quella cosa la devi rivedere nei simboli e il chatbot questo non lo può fare. Quattro, il chatbot non ti fornisce dei consigli personalizzati a meno che non sei tu a chiederli. Però anche in quel caso andresti a limitare il flusso intuitivo per chiedere in modo coatto di darti dei consigli, che è più un discorso razionale scientifico informatico che intuitivo spirituale e analogico. Cinque, una limitazione forse delle responsabilità perché un lettore di carte, un lettore di tarocchi umano per quanto possa essere sempre in linea con un concetto di professionalità è ovvio che si fa carico di determinate responsabilità quando fornisce una risposta ed è altrettanto ovvio che di fronte a domande delicate ti dica no questa cosa non si può fare. Il chatbot non è detto che limiti il dialogo e il grande rischio è che apra uno spiraglio a delle dinamiche o comunque alimenti una psicologia di un consultante magari già di suo poco posata. Inoltre, come vedi, per fare la lettura del tarocco io ho inserito manualmente le carte, non ho chiesto direttamente al bot questa è la domanda, questa è la situazione, estraimi tu i tarocchi e dimmi che significano. Perché? Perché in quel contesto il chatbot non farebbe, non fungerebbe da sincronicità digitale come potrebbe essere una funzione random di un software. Perché? Perché il chatbot si basa su dati aggiornati a cadenza, boh, annuale, biennale. Quindi che cosa fa? Se tu gli fai una domanda del tipo per trovare l'armonia e l'equilibrio devo parlare con questa persona? Il chatbot ti prende quelle parole chiave e magari restituisce nell'output quelli che sono gli arcani in relazione al concetto di parola o parlare oppure magari i suoi dati poggiano su uno storico di ricerche fatte dagli utenti e quindi dice oh su cento volte che mi hanno fatto questa domanda io ho fatto uscire questa risposta, mi hanno flaggato il pollice in su quindi gli rifaccio riuscire anche a lui questa risposta. Ecco perché è stupido chiedere direttamente al chatbot di estrarre le carte per te. La risposta è falsata dai dati, restituisce risposte date da dati e non veramente casuali. In conclusione detto questo intelligenza artificiale sì o no ma assolutamente sì integrata con? Beh spirito critico e intelligenza. Se trovi resistenza nell'integrarla forse il problema non è l'intelligenza artificiale può essere l'intelligenza analogica o il tuo spirito critico. È ovvio che se mi chiedi di scrivere il mio libro con l'intelligenza artificiale, fare un video con l'intelligenza artificiale, scrivere gli articoli del blog con l'intelligenza artificiale, fare non so, non lo farò mai o almeno ad oggi non lo farò mai. Perché? Perché preferisco farle di mio pugno altrimenti certo che siamo all'interno di un processo di deumanizzazione dove andremo a finire. Ma se per esempio l'intelligenza artificiale mi può aiutare a correggere qualche congiuntivo o questo è veramente un bene per tutti. Detto questo ragazzi commentate con la vostra opinione preziosissima qui sotto perché sono sicuro che questo è un argomento che farà discutere, discutere, ma non solo in questo video, negli anni a venire. E inoltre non dimenticare di seguirmi su questo canale che come vedi sto implementando, sto facendo un sacco di video interessanti e con una qualità altissima. Questo per portarti ulteriore qualità. Quindi iscriviti ora al canale, non domani, ora ora ora. Ciao!